salve a tutti ragazzi e ragazze oggi sono di nuovo qui con un video sugli ex sulle storie divertenti di ex fidanzate ringrazio di nuovo la pagina ed è subito ex per questi iscritti allora cominciamo subito questo che ha scritto la prima sera che ho conosciuto il mio ex abbiamo cenato e poi mi ha lasciata solo a più di mezz'ora perché doveva dire il rosario al telefono così ai genitori io vedi però sta gente si cerca e cosa perché cioè a prima sera che hai conosciuto già visto sta cosa già dovevi capì com'è raggio già dovevi scappà a gambe levate invece se lo siete nudo e molto tieni che vuoi allora questo la lascia la prima sera di rosario pettalevo ma pensa che rottura dei coglioni una sera io e il mio ex andammo ad una festa della birra prendiamo un bicchiere da 250 millilitri di birra chiara da dividere in due ma come fai come fai a dividere in due un bicchiere da 250 assaggi quando gli propositi assaggiarne un'altra vedi perché stavano assaggiare in realtà sempre una piccola da dividere voraccia voleva picchiarmi perché avevo fatto una proposta da troia ubriacona un bel vaffanculo e divenne ex hai fatto bene se lo pecco di nuovo gli meno un rutto in faccia al sapore di off brow house cioè gli hai meno un rutto in faccia proprio gli fa un rutto con violenza maledetti psicotici questa pure ho capito subito questa invece ha fatto bene ha detto ma questo è proprio un coglione ha fatto bene ma non lo vaffanculo brava il mio ex era fermamente convinto di essere un vampiro e a momenti credeva di non poter riuscire a controllare i propri istinti proprio a caso della sua natura sovrannaturale era proprio un ammazza proprio sovrannaturale infatti spesso e volentieri mi svegliavo con delle vite abbastanza vistose sul collo ma poi è scappata sta gente aveva 18 anni all'epoca non so che fine abbia fatto spero tuttavia che non abbia avuto a che vedere con ozzi oggi perché lo sapete no si è mangiato il pipistrello no che faceva finta che faceva il vampiro ma poraccio si è rincoglionito perso oggi dunque non so che fine ha fatto amico tuo forse starà in romagna con vlad che ti devo dire una sera ero fuori con il mio ex questo è un altro sovrannaturale questa non ha fatto highlight in pratica quelli che c'erano i vampiri licantrovi sentite questo che ha fatto dopo un po mi disse di sentirsi strano e poi pensate che c'aveva armare di testa che c'aveva invece no allora gli chiesi cosa avesse e così mi disse che era la luna piena capito io gli chiesi cosa volesse dire lui mi disse di sentirsi come un licantro e mi chiesi di andare via ma ha fatto scappare per paura di trasformarsi mentre metteva suoni strani ma pensate che è scena questa poraccia stava con lui e questo che metteva suoni strani lei è dovuta scappare ma che è un filmolo andava conoscete ma fate conoscere pure a me sta gente ma chi è questo qua che c'hava paura lui tutto a tratto c'hava paura che si stava trasformando in un licantrova ha fatto scappare perché se no sa ma chi è sta gente fatemi la conoscere che ci passano tre l'ansieme e faccio due risate guarda questo è il licantropo due anni fa una mia ex di me in Italia quando una sera passata con i suoi amici ormai divenuti anche i miei incominciammo a bere e parlare delle rispettive relazioni già questa era una cazzata non dovete parlare se giochi dei gruppi in cui vi raccontate le verità sessuali non dovete fare perché poi escono a fare cose poi rosicate meglio che ne fate parlate di altro fate un altro gioco no comunque arrivato al mio turno la confidenza divene dibattito pubblico e scambio di reciproci pareri perché se li era fatti tutti vedi dove facevi meglio ha fatti i cazzi tua no comunque lui dice fin qua nulla di male lui stava pure bene sta storia diciamo se non fosse che ad un certo punto io dissi ad uno di questi amici ti stai confondendo sta cosa lei non la fa e lui a te no a me ieri si poraccio calò il gelo e connesso la parola fino al nostro rapporto è il segreto cazzo ma comunque è proprio stronzo questo ma te potete almeno fai cazzi tua che gli vai a distacco ma pensa che è infame questo ma fatti i cazzi tua no ma pensa che è infame comunque rega il passato quando vi mettete con una persona il passato deve rimanere il passato non dovete fare nessuna domanda zero dovete fare i fatti vostri quella poi ho fatto pure le peggio porcate le peggio cose ma poi non vedevi riguardare perché sennò poi ci rosicate perché è normale no ma questo vale pure per le donne se sapete che il ragazzo vostro ha fatto le orce e le peggio porcate poi magari vi dà fastidio no quindi non fate domande non dite niente questo lo dico soprattutto alle donne però perché loro gli piace tanto parlare dell'ex ma a me che me frega dell'ex io infatti non chiedo mai niente non dovete chiedere niente quando uscite con uno il passato è passato punto basta scrivetevele non vi scordate sta cosa il mio ex quando lo dicavamo esantemente durante l'ultimo periodo della nostra relazione tratteneva il respiro e si metteva un cuscino in faccia facendo finta di soffocarsi inutile dire che scoppiava a ridere ma per lui era una scusa per incassarsi ancora di più non potevo prendere sul ridere cose così serie questo ci pensava da solo lui si soffocava faceva tutto da solo come quest'altro questo uguale il mio ex mentre dedicavamo si dava le pizze da solo questi qua tu manco devi impegnare quando ti incazzi che ci litighi loro pensano a tutto loro manco devi commettere reato se viene a pizze da soli se soffocano da soli mandatelo mandatelo a questa gente il mio ex dopo i primi preliminari si è alzato dal letto gridando schifato mio dio che schifo perché secondo lui vedere è orribile ed è così per tutti gli uomini sicuramente mentre dio un pervertito per essersi inventato un simile modo di venire lascio a voi le considerazioni pensa a questo porascio ogni volta che veniva era tutto schifato c'aveva paura di venire ma che cazzo vi dice la capoccia ma quello è il momento più bello di tutta la vita questo era schifato pensa a porascio che vi taccia una volta dopo aver fatto sesso con il mio primo ragazzo lui non trovava più il profilattico poi mi ha rassicurato dicendo di averlo buttato mentre non guardavo ha fatto il vaco in pratica lui si è perso dentro l'ha detto ma che cazzo faccio c'aveva pure da non ritrovarlo più l'ha fatto finta da niente c'ava pensava che lei ne l'arribbe trovato no capito dice più tardi tornata a casa ha detto una cosa strana dalle gambe e niente in pratica se l'era perso dentro di me forse credeva che non me ne sarei mai accorto lui ha fatto il vaco capito c'aveva pure che non riuscirà a pian pian l'ha fatto finta da niente da mo so cazzi tua ti avevi idea dopo io mi è vado lui è scappato lui è scappato proprio in messico non voleva più sapere niente questa storia Cosa sarebbe rimasto là dentro per sempre Questo ha detto Perché poi i commenti Io leggo sempre pure i commenti Vicino a A si screenshot Perché sono ancora più divertenti Dei messaggi stessi Questo ha detto Io una volta ho perso il pisello dentro Me ne sono accorto a casa Che grande Un paio di anni fa Preparare le polpette al sugo Per la mia ragazza Al periodo terminò di mangiare Si alzò per portare i piatti nel lavandino Senza fare la scarpetta Col sugo che era rimasto Da quel giorno Divento la max Vabbè Lasciarla Per una cosa del genere Mi sembra un po' esagerato Però in effetti è un peccato La scarpetta La devi fare Ma che stai a fare Però ci stanno pure quelle che invece Te lasciano addirittura Da mangiare il piatto Quello è proprio Questo è sempre sulla cucina Ho lasciato la mia ex Perché non sapeva fare la carbonara Ma perché mi hai imparato a cucina Ma non è che ci vuole tanta cucina Ma come fate ad andare avanti Senza sapere cucina C'è sta gente che non è buona A fare se manco una parte cammino Ma imparatevi a cucina Come cazzo fate a campare Senza cucina Io non lo capisco Quest'altro il mio ex Faceva la carbonara con il latte Come fai a farla con il latte Il mio ex faceva la carbonara Con la cipola Comunque raga Sempre meglio Dalla carbonara vegana Mannaggia Primo appuntamento con il mio ex Cena romantica da lui E poi giro in macchina Sulla spiaggia Tutto romanticissimo Tutto perfetto Fino a quando non si spegne la macchina Davanti al mare Con la luna piena Che si riflette sull'acqua Ed ero convintissima Fosse stato lui a spegnerla Ero felicissima Pensavo stesse Per bacermi per la prima volta Ma se avvicini Mi sussura dolcemente La macchina si è spinta La spingi Così ripartiamo Non so ancora Se ridere o se piangere Mamma mia Che scena poraccio Questo è detto Gli è andato anche bene Io avrei tirato una bestemmia Così forte Che la macchina Ripartiva E aumentava pure i cavalli Questo è che Adesso la prossima volta Prova a uscire Con Fred Fliston Questo è stato un genio Perché in effetti Fred Fliston La spegneva da sola la macchina Gli c'hava bisogno Delle stelle Scusa Questo invece Un articolo che dice Ex fidanzato Distribuisce foto 8 della sposa Maxi Rista Alla festa Cioè questo qua È andato a lei Rompi i coglioni Questa L'ex sosa Lui è andato là Con le foto De lei nuda Per romper i coglioni Io vi ho detto sempre Ma perché vi fate Ste foto nudi Ma perché Io posso capire Che uno sta ingrifato E fa le peggio cose Ma poi una volta Finito l'ingrifamento Cancellate queste foto Non vi affittate mai Di nessuno Che poi vi lasciate Poi che ne sapete Quello che ci fa Che foto Perché dovete fare Queste foto nudi Io non capisco Mamma mia Quanto siete narcisive Dovete vede nudi Ma guardate Ve lo specchio E non rompete i coglioni Questo ho detto io Una volta Durante un momento Di intimità Proprio al suo alpice Nel suo strello Orecchio Angelina Alfano Che infame Per pure sadismo Non reagì molto bene Il segreto Angelina Alfano È tremendo Mamma mia Brutto come la morte Meglio un carcio sulle palle Meglio una piccolata Su un ginocchio Che Angelina Alfano Boraccio Comunque io ho sempre pensato Secondo me Alfano doveva fare l'attore Perché c'ha papà La faccia da cattivo Capito Poteva fare E il cattivo Boraccio Il mio ex voleva rimanere a casa Il sabato sera Per guardarsi C'è posta per te Questo è spettacolare La voce di Maria Lo faceva addormentare Cioè qua È doppiamente grave Sta cosa Perché a volte Che lui non voleva Scegliere Voleva stare a casa Guardasse Maria De Filippi Che diceva una cosa grave Ma lui lo voleva fa Perché voleva dormire Capito Questo Questo era il punto Lui voleva proprio dormire Ma chi Veramente Ma chi Ma chi Ma perché la gente Non riesce a stare da sola Se devono fidanzare Per forza Il mio ex Si è fatto Prato E se vede che gli avevi rotto Tantico I coglioni Che alla fine ha detto Basta Io mi faccio Prato E ho chiuso Quelle donne Eh Ma che la colpa Era la tua Non è stata la chiamata De Dio Sai tu che hai fatto Passare Oia boraccio Che s'altro invece Il mio ex Era fissato con le percentuali Attualmente ti amo Il 30% Magari se butti giù Qualche chilo Potrei arrivare al 50% Se proprio ti impegni Anche a vestirti In modo più femminile A cambiare certi lati Del tuo carattere Che mi infastidiscono Potremmo arrivare Ad un 95% Il 100% Forse lo raggiungerei Con gli anni Ma che cazzo è sta roba Credo che il mio ex Mi abbia sputtanato Su questa pagina Ma per quanto ci sia rimasta male Non posso fare meno Di pensare che Si ha scritto di me E perché mi pensa ancora E ancora una volta Ho vinto Era uno sotto gli scrittori Se pensi ancora Che ci sia Chi vince e chi perde Non ti rendi nemmeno conto Di quanto tu sia miserabile E invece Secondo me Non è così Perché alla fine Ci sta sempre Chi vince e chi perde Una storia può finire In un modo Che ti fa soffrire Due anni Così come può finire In un modo Che tu stai tranquillissimo E chi vince e chi perde Se gioca veramente Sul filo del rasoio È un attimo Potresti essere Da una parte o dall'altra E la cosa può cambiare Pure nel corso del tempo Magari prima Eri tutto tranquillo Poi la vedi con altro E cominci a stare male tu In realtà poi alla fine Vince sempre Chi gliene frega di meno Perché lo sapete Noi gli stronzi Vincono sempre nella vita Sono stata fidanzata Da cinque anni E di questi cinque anni Il mio ex Non è mai riuscito A farmi avere un orgasmo Perché ne hai lasciato Perché secondo lui Sentite questo Che genio che era Basta che vengo io Non era la stessa cosa Secondo lui era la stessa cosa Ma come Che cazzo Come fai a pensare La stessa cosa Beh no bello mio Di un orgasmo Ogni tanto ne avevo bisogno Anche io Credo pure ascia questa Lui secondo lui era uguale Penso che il ragionamento Che questa era proprio Una cima era Quando la mia ex Andava in bagno A cagare Sentite questo Pretendiva che fossi presente E le tenessi in mano Così si preparava Psicologicamente al parto Ora tre figli Beh hai fatto un bel lavoro L'hanno pure scritto Nei commenti Hai fatto un bel lavoro Allora ma come Cioè tu vai al bagno Con tu ragazzo Ma che cazzo è sta roba Io veramente Ha bene intimità Ma cioè Va bene tutto Ma almeno quell'atto Lì fatelo da solo Ma io non voglio Assistere a queste cose L'ultima frase del mio ex È stata Aspettami qui Vado a parcheggiare Sono cinque mesi Avrà trovato traffico Questo proprio Non è che dice Ha lasciato a casa Vado a comprare sigarette Come se faceva a morto No lui ha proprio Lasciato da qualche parte Lui se ne è andato Ha detto Tanti che ci ha Batta una affa Ancule me ne è andato proprio Sto poraccia Gli st'andava lasciata Poi tra l'altro E ora ve leggo l'ultimo messaggio Che è particolarmente significativo Io ed il mio ex Ci siamo lasciati A causa della distanza E ne abbiamo passate tante Tra alti e bassi Ma quando è morto Mio fratello Quest'estate È corso da me E non mi ha mai lasciato Un secondo Ha dormito con me la notte E mi ha abbracciato Mentre piangevo Si è dimostrato La persona migliore che conosco E non gli sarò mai grata Abbastanza Per tutto C'è pure la gente civile Con un po' di cervello Purtroppo regà L'ex Ho già detto Sono un macello Io sono sicuro Che pure qualcuno Tra voi che stava Guardando sto video Avrà ripensato all'ex Magari tra ricordi Rabbia Nostalgia Purtroppo regà è così Come va Va male con l'ex Fortunatamente il tempo Corrisce tutte le ferite E qualcun altro Che ve incasinerà la vita Allo stesso modo Lo troverete Quindi statevi tranquilli Non siete impazienti E statevene un po' pure da soli Che se sta così bene da soli Io lo dico sempre Ah e se avete pure voi Qualche storia divertente Con qualche ex Scrivetemela qui sotto Nei commenti Così magari La leggo nel prossimo video Dai Poggio è tutto Su Un saluto Un saluto